E me ne pentirò, siamo vicini ai 50, c'è, dopo qui c'è il primo salvataggio Ben vicini, dai dai Bene ragazzi sono Agisius e io sono Alex e oggi siamo su un gioco horror, ragazzi si chiama Spooky hands off, Spooky hands off, off c'è uno scherzo, ok E ci abbiamo giocato un pochino, divertito non va a play Oh che bello, comincia proprio, comincia così, la vita è una cosa fighissima proprio Ok allora tu premi questo, qua quando arriviamo alla porta, apre le porte, si, che figo, Spooky comunque ci ha detto che il nostro obiettivo è praticamente continuare a andare avanti Guarda qua la cassetta, cassetta, cassetta Guarda qua la cassetta, cassetta È un po' inquietante però E senti, senti, non c'è po' Non c'è po', io non ho la minima idea di quante stanze ci siano Bello Non lo so, non lo so veramente, è vero dipinto, della stanza, si 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 Comunque noi se non ho capito male all'inizio spieghiamo un po' la trama, cazzo Viola, proprio, blu I colori Belli Spieghiamo un po' la trama e diceva Che è una casa abbandonata, si che non si capiva bene da Di merda E noi ci entriamo perchè siamo scemi Si siamo scemi si, c'è scritto anche che conteneva contenuto violento, mi sembra abbastanza carino però come horror, mi sono ancora spaventato quindi Sangue, schizzino, ogni dove, ogni guerra, ok Ogni cinquanta stanza penso ci sia un checkpoint, se ci arriviamo Ha proprio l'infinito le cose, le stanze Si, questo, questo, questo No, perchè a destra, perchè? Perchè mi piaceva scegliere Brutta Ma perchè ti si consuma così velocemente con la roba lì? E perchè sto correndo Ah, stai correndo Monello Monello Siamo a cifra tonda, secondo me qua c'è uno spavento Dieci, si Scuro No Quando apriamo la porta? No Si Eh Cos'è? Oh cazzo Che bello Oh cazzo Cos'è? Colosseo No, scherziamo, la cambia Mi pare proprio colosseo Oh cazzo, mi sta dando abbastanza Mi sta inquietando Non paura paura, però inquietudine neo Ma tra l'altro è tipo infinita sta casa, tipo Cos'è sta roba Non ci andare sopra Per nessun motivo Se lo guarda qua Vabbè, va bene, va bene Vabbè, va bene Vabbè, va bene Mi sta facendo venire più essere lui che il gioco di per sé Poi Spook comunque ci ha detto di... Di morire Si, male Siamo qua tutti Ogni stancio Si Invece non c'è E questa è la bastardata del gioco Ancora Mi vado di qua, va bene Vai Sono trasgra 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 E' una zucca Una zucca Una cazzo di zucca mi ha fatto venire un infarto Non mi si è spaventato Tu non ti sei spaventato? Perché è una zucca carina Io mi... Mi ha spaventato il volume, non la zucca Mi ha fumato le orecchie E cazzo, Ale, non fai tutto io Si, fai tutto tutto Aspetta, aspetta Ah! Che sono sti rumori? Eh, la zucca Ah, la zucca La zucca In un gioco in cui ci sono zucca Potrebbe anche essere carico Come dire Cioè, non abbiamo avuto... Fino ad adesso Adesso tutto in un tratto Ce ne metti tutti insieme? Si, si, tutte zucche E' fantà Polipo Fantà Scorreggia Perché non posso correre? Ok C'è un altro C'è un altro Adesso ti frega Adesso te ne ha messi il tipo per un po' di file Adesso non te ne metto più per un po' di file Infatti vedi Perché sono bastardi i creatori Bastardi 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 Oh, siamo vicini in cinque Siamo vicini Siamo vicini Siamo vicini E questo mi preoccupa E questo mi preoccupa Oh, che cazzo Perché non si può buttare giù Tipo malamente Leggi Ah, si può leggere? Ah, in... Questo posto sembrava davvero carino Ma sono qui da giù Adesso Ma sono qui da giù Adesso sono... E' romantico No, ha detto tipo che sembra che sia osservato da qualcuno e questo non mi sembra affatto carino Cosa così Di... 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 Cos'è sta roba? Cos'è? Hang here Boh, una... Reliquia What? Inci Ah, che figata Non c'è il point Ah, tipo aggrappati qui Vuol dire quello la frase Dobbiamo proprio scendere Credici Cos'è che c'è il muro? Giuse Ah, sta scendendo Ma... Noi stiamo scendendo proprio C'è questo è un ascensore C'è questo è un ascensore E' un ascensore gigante cos'è? E ce l'ha scritto down Ce l'ha scritto effettivamente che troviamo a pensarci Una porta che si chiama da nulla Penso che arriveremo a cento... Cos'è? Se magari anche no Oh... Ok Mi stavo cagando, giuro, cioè Ma... Il fantasmino, il fantasmino Il carino Il carino Ma perché? Il fantasmino Il fantasmino Il fantasmino È proprio carino Il fantasmino È carino, carino, carino È carino Lassiamo su un cavolo Ah, ma nel braccio Perché c'è sta cosa qua? Cos'è? Se cagati muori Muori ma... Non puoi cadere? C'è una sedia? Eh no Mi sa che non puoi andare avanti di qui Guardiamo al lato positivo però Non ci sono muri I fantasmini non saltano fuori No 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 Oddio Cos'è? Perché siamo in una gabbia? Ma più che altro Quanto cazzo è profonda Sta cazzo di casa? No, proprio la infinita C'è... Infinite C'è... Puzza di merda Una pisciata Qualcuna pisciata Eh? Ti guardai intorno Guardati intorno Guardati intorno Eh sì, ah ok Quella intende forse Con la macchia per terra Ah va dove lo pianisci Eh... Va bene Ci siamo guardati intorno Ah no Vuole che... Ah ok Sono tutti dei... Dei verbi Oh cazzo cos'è? Oddio Cos'è? Non lo so Non lo so Ho visto qualcosa Io non l'ho visto Io l'ho visto Io l'ho visto No la macchia La macchia Cos'è? È chiusa Cosa? Oh cazzo 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 Eh... Eh... Merda Eh la macchia Merda Merda Ecco cosa serve la vita Ecco cosa serve la vita Ma perché non ci stai più inseguendo? No no ci stai inseguendo Ma è lento? Sì Ah! Apri questa cazza di mano Aprila Cos'è quella merda? No ma quante macchie ci sono? Oh 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 cazzo Vai vai Oddio Lancia mille Cazza di musica eh Sembra Sembrano iiii Non lo so adesso facciamo un spavento sicuro Qua? Oddio C'è un'altra via mi sa di là Quindi questa sarà chiusa di sicuro No 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 Non è chiusa C'applicamente dobbiamo parlare alla 100 E dove quello Luca ce ne segue Si e spero non ci sia la 50 Come quella della 50 Cos'è? Ti ricordi la 50 Che era quel cazzo di labirinto Che io ho detto Fiasi Immagino se ci sia qualcuno qua Cazzo questa messa da bastardi Ok ci ho fatto superarla Cosa? Sì a lei E poi? E poi? Oddio vi Oh ok Mi sembra di avere questo quello lì No lo fai se è davanti Non lo so Non lo so Ah lo so Non lo so Aprii Fiorate mi scena mille ragazzi Un po' meno Ma se mi cerca per chilometri? Si Ma muori male Muori male Mi sa che è lui che ci guarda morire male Oh oh Si basta Forse No posso correre il cazzo di macchina Non mi fido Io non mi fido Cos'è? Cazzo Che cazzo è? Dio Oh io vado via Oh mio dio Non ci potrei schiacciare tipo Non lo voglio Io non lo voglio liberare quel coso Mi sono impazzito Poi ti fa anche delle scelte Chissà se vuoi le scelte Oddio Paradiso Perché c'è paradiso qua? Oh i pittori Cos'è? Questo non è il parolo Oddio Che cazzo è? Ah ma no Sono tipo i creatori Chi ha giocato Davvero? Fa che Sembrava un pittore il primo Ehm 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 Cos'è? C'è chi ha giocato al gioco L'hanno incorniciato lì Oh cazzo Eccolo C'è paradiso anche sotto Paradiso e deserto sotto Cos'è? Oh cazzo Cos'è? Cosa cazzo? Ah la giusta è sbagliata Ah E' sempre dritto poi C'è una volta a sinistra e poi tutto dritto Guarda Giusta 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 E c'è voi Guarda ok Bello Molto interessante Non lo faccio in seguito da qualcuno 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 No no sono in pittoria Oddio prendiamo una lattina Ah no il videogioco non è il distributore C'è anche il distributore Cazzo ho sentito? No No Pac-Man Non ci credo No No Che figata Di mangiare Pac-Man Modiglio Che cosa fai' Oddio Che roba crudele Ah, non posso fare neanche... Quanta cellulata, vedo il mio cuore Che figata Così Che cazzo L'ho failato, l'ho failata L'ho failata Come ti fai a uccidere? Oddio Sei proprio E' proprio il gioco in macro Al massimo, si Voglio uscire? Eh, devi perdere per uscire Non fare il profilo No, ancora sta roba Mi sa che c'era ogni volta Ma è uguale tipo, è sempre uguale, ok? No, è che è diverso E non è che non c'è il tempo Sì, vabbè Vai Sì Alleluia Cento No, c'è il checkpoint Sì Sì Aggrappati a sto Quindi ragazzi, se il video è venuto, lasciate un commento Mettete mi piace Tanti mi piace Se volete che continuiamo la serie E anche tanti commenti Tanti iscritti Dovete fare tanti Sì, perché è anche molto lungo, davvero Quindi se vi è piaciuto, lasciate un commento Metti mi piace, iscrivetevi E noi ci vediamo nel prossimo video Bello ragazzi Non è le... No Mi hai dato fuoco Ma mi fai sfaurare No Che fai Oh ma perché non muori? Alleluia 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 Alleluia